è doveroso partire dalle condizioni di danilo il risponso di questa mattina del del j medical lesione di medio grado aduttore sinistro si era capito che era qualcosa di serio si parla di otto settimane quindi due mesi quindi nel caso delle due fatemi aggiungere una quindice dei giorni in più secondo me danilo tornerà verso fine gennaio perché siamo praticamente a dieci giorni dalla fine di novembre dicembre gennaio fine gennaio primi giorni di febbraio ci aggiungo quell'elemento di prudenza che è tipico della formazione della società bianconera dello staff medico bianconero brutto colpo soprattutto per lui perché si è fatto veramente male si era capito che era una cosa molto seria colpo anche per la juventus anche se da più parti sento dire che la svolta della partita è arrivata proprio lì cioè della parte contro la lazio è arrivata proprio lì ossia l'uscita di danilo e si è sistemata la juve con quadrado riportato ad agire da terzino destro pellegrini a sinistra e bonucci e delit centrali diciamo che in quel caso la juve ha fatto di necessità virtù e quindi è andata bene così però l'assenza di danilo credo che sia molto pesante anche se la juventus non è mai stata una società che ha pianto per queste situazioni non si è mai creata l'alibi delle assenze la filosofia della juve e soprattutto di massimiliano allegher sempre stata 11 giocatori da mandare in campo li abbiamo il problema è se non hai 11 giocatori da mandare in campo ma comunque quelli ci sono e quindi la juve agirà di conseguenza come ben sapete per la partita di domani contro il celsi non potrà esserci pellegrini perché non è nella lista e quindi non potrà essere nemmeno convocato per questa gara lì a sinistra tornerà quindi alessandro e c'è da pensare che bonucci e delit saranno ancora i centrali da qui a dire quanto possa cambiare la formazione rispetto a quella con la lazio è ancora un po presto si cercherà di capire specialmente dopo le parole di massimiliano allegri e magari ne discuteremo nel video di questa sera certo è che io mi aspetto dei cambi anche perché anche perché ripeto il concetto secondo me ma no secondo me è mia mia idea personalissima la partita più importante è quella di sabato contro l'atalanta poi mi si dirà ma no è importante arrivare al primo posto nel girone e quindi c'è il silvio è una partita importante in sé perché si affrontano due squadre di livello internazionale si affrontano in una quasi non dico una classica ma comunque una sfida sempre molto affascinante non è la prima volta che succede e poi è vero c'è in palio il primo posto del girone però dovrei anche ricordare agli amanti della statistica che la juventus ha vinto il proprio girone anche nelle due esperienze precedenti ed è uscita con due seconde classificate agli ottali quindi non è sempre così matematico o aritmetico che se vinci il girone quindi hai una seconda classificata negli altri tu passi e che se arrivi secondo nel girone hai una prima tu sicuramente non passi anche perché cito anche marcello lippi in una delle sue diciamo massime di ovvietà ma non perché voleva essere ovvio perché è ovvio che sia così che se vuoi vincere o vuoi arrivare comunque fino in fondo nella competizione devi misurarti ovviamente anche con le più forti e non puoi sempre pensare di avere le formazioni sulla carta ripeto sulla carta più abbordabili ma se vuoi arrivare fino in fondo una forte la devi pur sempre battere allora io sono dell'idea che anche qualora la juventus dovesse arrivare seconda e capitasse una prima classificata nel girone comunque è sempre meglio affrontare le forti sulla doppia sfida che nella sfida secca e la storia della juve in champions ne dà ampia dimostrazione di quello che sto che appunto ho appena finito di dire un tema che ho affrontato anche questa mattina se mi avete sentito su radio bianco nera se non l'avete sentito ve lo riassumo molto probabilmente è quello della ricerca comunque di una juve più duttile nel senso di una squadra che deve anche comunque trovare il gioco che pressa l'avversario e non solo giocare di rimessa come ha fatto contro la lazio al di là del fatto che comunque il possesso palla se poi si vuole distinguere tra l'avversario ultimi 30 metri primi 15 secondi 12 allora non ci si capisce più niente i dati ufficiali riportano un 58 a 42 che non mi è sembrato così schiacciante della lazio nei confronti della juve è ok è sicuramente una prevalenza dell'azio in questo senso ma poi non mi sembra così no netta e schiacciante detto questo è vero che la juve ha giocato prevalentemente o comunque è stata più pericolosa quando ha agito in contropiede però in questo caso va fatta una doverosa premessa 1 una doverosa premessa che la juve ha un estrema vitale necessità di fare punti dopo essersi buttata via all'inizio si è autocondannata ad avere molto senso pratico cosa significa questo che devi fare punti in ogni modo in ogni dove e in ogni circostanza naturalmente sfruttando le caratteristiche dei tuoi giocatori la juventus è una squadra che per caratteristiche è votata a giocare anche in velocità o meglio le riesce meglio giocare in velocità se tu chiesa lo fai giocare in azione manovrata con tikitaka e compagnia bella nei limiti quasi un 50 per cento delle potenzialità lo stesso dicasi per kuluseski che in questo momento però assolutamente non mi convince e per lo stesso murata che è un giocatore che ama comunque andare in velocità andare in profondità per caratteristiche questa è una squadra che va fatta a giocare così a maggior ragione in questo momento nel quale queste caratteristiche possono portarti a punti perché la juve ha bisogno di punti non di sentirsi dire che gioca bene non di sentirsi dire che schiaccia l'avversario perché se giochi bene schiacci l'avversario e non fai punti alla fine la classifica resta lì com'è e se la classifica della juve resta lì dov'è sono guai ma non perché va a inguaiarsi in altre situazioni sono guai perché non raggiungi i propri obiettivi e qui entro nell'ordine di un altro argomento forse sono stato un po frainteso nel mio video di ieri io non ho detto che la juve può arrivare a puntare allo scudetto io ho detto che la juve deve procedere per gradi e fissarsi un obiettivo per volta e poi bisogna vedere cosa succederà da qui a qualche mese lo so anch'io che è difficile non impossibile molto molto è ancora molto difficile arrivare là davanti e ce ne aggiungo un altro di molto ok occorre una combinazione pazzesca una continuità pazzesca della juve e che le squadre davanti contemporaneamente perdono punti e perdono terreno di questo sono perfettamente conscio quando dico ha recuperato cinque punti le ultime due partite alle prime in classifica dico che la squadra la strada è ancora lunga però ha recuperato cinque punti cioè questo significa che non è che non puoi recuperare punti ma da qui a dire la juve si lotterà per lo scudetto ne passa se mi sono espresso male chiedo scusa evidentemente mi sono non mi sono espresso benissimo se avete capito male chiedetevi scusa va bene ok ultima annotazione io ieri ho parlato bene del napoli ho detto che il napoli del passato non avrebbe reagito così nel finale ma non volevo dire che l'inter non ha fatto una grande partita tutt'altro io mi ero focalizzato sul napoli e ho analizzato il napoli in quanto capolista così come il milan è ancora capolista adesso l'inter è a meno 4 ma l'inter è una squadra fortissima non volevo dire questo non volevo dire che la squadra non fosse forte e che non avesse poi magari alla fine meritato di battere il napoli assolutamente no mi stavo focalizzando sui primi due in classifica il milan e il napoli per dire che il napoli in un altro momento avrebbe incassato forse anche il quarto e il quinto gol e invece è stato in partita fino alla fine nel senso che addirittura ha sfiorato il clamoroso pareggio nel finale credendoci mettendo le corde l'inter nell'ultimo quarto d'ora questo volevo dire questo volevo dire poi dicono che i giornalisti vogliono vedere le cose a modo loro e travisano la realtà mi sembra che ogni tanto succeda anche da parte di chi ascolta parlare i giornalisti ok ci vediamo stasera col prossimo video ciao ragazzi buona giornata